È pronto l'oroscopo di oggi 20 dicembre 2018 di Paolo Fox. Il celebre astrologo preannuncia un giovedì particolarmente diverso per ciascun segno Quelle che andremo a vedere, sono le previsioni, tratte liberamente all'interno dell'app Astri di Paolo Dunque, vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe succedere nelle prossime ore.Oroscopo martedì 20 dicembre 2018. Da Ariete a Vergine Ariete. Potrebbero esserci delle possibili avversità durante la giornata. Paolo Fox suggerisce di organizzarvi bene onde evitare eventuali ritardi Toro. L'oroscopo di oggi 20 dicembre annuncia un Marte in ottimo aspetto. Concentratevi sulle novità Gemelli. Avrete la luna nel segno, e ciò potrebbe garantire emozioni. Si evidenziano possibili conflitti con il proprio superiore o un socio Cancro. Questa seconda parte della settimana sarà all'insegna dell'amore. Coloro che hanno avuto dei problemi in questo campo, dovrebbero tentare di scovare una soluzione Leone. L'oroscopo prevede interessanti incontri per i single.Vergine. Potrebbero nascere situazioni di agitazione, evitate di strafare Questa giornata è utile per concludere qualcosa di interessante, ma Fox invita a controllare le clausole attentamente Paolo Fox e l'oroscopo di oggi 20 dicembre. Previsioni da bilancia a pesci.Bilancia. Alcuna Alcuni di voi stanno faticando pur di ritrovare equilibrio e serenità In vista del Natale, alcuni rapporti potrebbero cambiare. Il lavoro, o almeno l'ambiente lavorativo, non vi sembra più come quello degli anni precedenti Scorpione. Sarà un giovedì interessante, le relazioni nate oggi potranno rivelarsi efficaci Sagittario. L'oroscopo del 20 dicembre annuncia una giornata particolare a causa di un probabile e forte stress Avrete la luna opposta.Capricorno. Qualcuno potrebbe avvertire dei fastidi fisici, ad esempio alla cervicale o alla schiena E' possibile che qualche amore sarà recuperato.Acquario. Emozioni in vista, parola di Paolo Fox. Chi ha avuto dei problemi con qualcuno, questo è il momento ideale per una riconciliazione Pesci. È in corso un nuovo programma ma vi sentirete affaticati. Chiedete aiuto, contate sulla famiglia o sull'amore Chiedete aiutori.